Se volete acquistare crediti o fifa points a prezzi bassissimi, passate da mmorg, link del sito in descrizione E con il codice Henry avrete il 6% di sconto Ciao ragazzi, sono Henry Lanzo, bentornati al nostro nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi sono qua con un ospite davvero davvero speciale, ovvero Yuzad Wimp Bene ragazzi, carico mai da Yuzad Wimp Oggi ragazzi siamo qui con una... Discard Pack Challenge Esatto, praticamente dovremmo scegliere l'attributo del giocatore più alto di over che troveremo nel pacchetto Quanti mi piace chiediamo? Allora io direi che almeno 1000 like minimo, cioè ragazzi Si stanno 1000 like minimo A 1000 like scartiamo un informe Esatto Questa ragazzi sarà la prima parte del video e la seconda la troverete sul canale di Yuzad Wimp Che vi lascerò qui sotto nella descrizione sia canale sia... Esatto E sia la seconda parte appunto Quindi ragazzi, a me non resta altro da dire e andiamo dentro Con i Bucks Partiamo con il primo pack, il mio 3 Ricordiamo che l'attributo dall'inizio, il primo attributo lo scegli Henry Andiamo, il primo pacchetto, attenzione 1, 2, 3, ah già aperto Sì certo io sono avanti, ma ti aspetto Ok, anch'io Possiamo schifare Comincio io quindi direi Velocità Chiama c'è l'attributo Allora vai, quanto hai di velocità tu? 81 53 Bello Scartiamo il primo pack ragazzi Scartiamo Scarto anche io perché tanto è una merda Vai col secondo pack Andiamo col secondo Pacchetto Marsiali Anch'io Marsial Bello Ma che merda Vabbè a me è uscita 1,79 ma fa schifo Quindi anche se me lo scarto Non ci stanno problemi Vai allora io ti chiamo Il passaggio 78 77 Vabbè scarto anche io Marco Lino Royce Anzi no Harry Kane Come on Harry Kane Hamester Rodriguez Please Ok allora Perfetto Portieri Oh my god Terzi in sinistra Io ho il portiere Come cazzo faccio? Vabbè facciamo la statistica Che corrisponde Ok vai vai Io c'ho cantato C'ho un cantante Allora ti chiamo il dribbling Dribbling 78 Difensore centrale 60 di training Tu? 84 Affamosa Ancora Scarta Scarta tutti io Mi sono scartato tutti Vai vai Procedo Oh yeah Oh yeah Dai Con hazard Edenino Hazardino Ok questo Che merda Che è È uscito Kane Kane 80 di overall E ti chiamo Il tiro Il tiro Tiro 81 82 Oh yeah Scartalo 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 Scartato Ti prego Un oro raro forte Un oro raro forte Ma che schifo Madonna Le Cos'è Dell'Eister Hernandez Oh my god Oh my god Che schifo Allora ti chiamo Fisico Aspetta ne ho due 78 Quindi posso vedere Su tutti e due Giusto Sì Allora Ci ho 81 Vaffanculo 79 Avevo anche due forme fisiche No io c'ho pure il coreano Ah no i coreani non valgono Un cazzo Vaffanculo C'ho anche il dream Uguale Però la velocità 79 79 Sì Quanto 79 79 79 Hai detto 89 Non capisco Un cazzo 79 79 Ok 75 Io quindi Lo scarto Gamiro mi è riuscito Ho visto Atletico Francese Se fosse Griezmann Ma sti gazz Vera Leggenda E almeno Prendiamo io lo schifo questo Tant'è una merda Cosa mi è uscito Orca puttana Ho anche 5.000 crediti Non farmelo scartare E io c'ho 1.000 crediti Ombra E un pacchetto Giocatori oro Porco 2 Vai col tiro 72 79 Mi tengo Anche 5.000 crediti Io c'ho guarigione Ombra 1.000 crediti E pacchetto Giocatori oro Che devo andare A scartarmi tutto Vai Rutto pecca Ti prego Vai Ok Aronaro Che schifo Le uso in spiaggia Io queste Le uso in spiaggia Cos'è C'ho fatto La biglia Dico fisico Questo non posso perderlo 76 83 Oh my god No hai fatto scartare Il cacciatore Ah 5.000 crediti Another pack Another pack Anthony Marziano Ha usato accate Affanculo Che schifo Io Vabbè Quatt Che fisico Fisica Fisico Aspetta 68 76 Mammi Mi ha prato Devo scartare Lo sto scartando Trappi di parte Non va bene Così 84 77 Sì Vomg legend Zidane ho trovato Andata del pack Marco Royce Marcolino Marco Letto Fammi spavare Mi fai colca Ho visto Visto coche Vabbè coche Buono Ho visto la sera Abbastanza grande Suarez del Barça Cazzata Te lo giuro Suarez del Barça Sì Non è vero Te lo giuro Mandami la foto Oh mio dio Suarez del Barça Ma vaffanculo È Suarez del Barça E questo è vero Passaggio 80 85 E teniamoci le coche Ragazzi Ho chiamato le statistiche Ok vai vai Marcolino Royce Lenino Hasardo Hasardo Senti come No Ancora non raro Oh buono questo Almeno non mi posso Ok ok C'è ora non raro C'è sta C'è sta Magristo E velocità Velocità 78 77 Che la ha Che la ha Che la ha Il panace E qui E scattiamo Oh Walkout 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 Te lo giuro Aspetta Spagnolo Spagnolo Cc La Tragnesta No No Ti giuro Se lo fai scartare Ah tocca a me Non credo Non credo Non credo E' scartissimo Tocca a me Vai No Dribbling 90 Sì me lo tengo Il dieste Quanto vale 50.000 Buono Gazzo Ragazzi Penultimo Pacchetto Andiamo Harry Kane Dai Dai Attenzione Dammi qualcosa di buono Difessore centrale Francis Chi è Chi è Rami Vabbè 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 Andiamo sugli alberi c'è in sonno di Rami Vai 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 E' la mia squadra dei oh my god come una sacca monica ma che schifo ma che schifo craft passaggio passaggio allora il passaggio per il portiere sarebbe quando in basso 54 che bello 78 scatta anche della sparte ragazza quindi ragazzi questa prima parte finisce qui io spero vi sia piaciuto come sono scelte un bel ragazzo mille mi piace solo per iniesta passate ragazzi nel canale di user che lascerà in descrizione che ci sarà restremmo subito la seconda parte passate inoltre da mmolog e tutti i canali del live nel mio sito a merda a merda iscrivete al canale sento ancora fatto qui da ragazzi è tutto bella mia bella ma